Nella mia città abitano persone speciali. Alcune sono giovani come mia sorella, altre hanno i capelli bianchi come mio nonno. Sono donne e uomini, tutti molto indaffarati. Guidano ambulanze di giorno e di notte e aiutano chi sta male. Parlano al telefono con chi si sente solo. Offrono un pasto a chi non ce l'ha. Accompagnano al lavoro chi non può muoversi. Insegnano nelle scuole come aiutare chi sta male. Sono coraggiosi e pieni di energia e cercano di sorridere anche quando sono stanchissimi. Tutti i giorni fanno un regalo alla città, il loro tempo. Tanti auguri, eroi del bene da 120 anni! Assistenza pubblica Parma Una storia di solidarietà dal 1902 Questa è in generale della mia neuroscienza. Alla prima gioche, un ahirau a incontr reminder